napoli resta candidata anche se praticamente tra vent'anni alle olimpiadi a parte che noi campiamo la giornata non può favorarmi il 2032 mi rifiuto proprio noi avevamo lanciato non una candidatura avevo lanciato una suggestione un'idea sono e bella che chi poteva cogliere non ha colto che era quella delle olimpiadi del mediterraneo che sono una bellissima cosa soprattutto per quello che accade nel mediterraneo sono messi un po paura che forse diventavamo troppo protagonisti e chi poteva coglierla in un momento in cui roma si era ritirata non l'ha colto ma è 2032 chiedetelo al prossimo sindaco di napoli io ho le università del 2019 me ne tengo ben care che un risultato strategico concreto effettivo e non andiamo ai nipoti ai pronipoti grazie